Sono Roberto Colotti della sede Istat di Venezia. L'Istat incontra spesso le università, e noi in Veneto, in particolare quelle di Padua, Venezia e Verona. Andiamo a raccontare cosa facciamo, cos'è la statistica ufficiale, cos'è il sistema statistico nazionale. Descriviamo agli studenti quale informazione statistica è disponibile e come trovarla online. Spieghiamo cosa significa un dato e raccontiamo il percorso per ottenerlo. Parliamo anche dei dati sui dati, in gergo i metadati. L'ultimo incontro è stato dedicato al censimento permanente della popolazione. L'Italia ha bisogno di campioni, è lo slogan che l'Istat ha utilizzato per presentare il nuovo censimento. Così siamo andati in aula a chiarire come si fa un censimento con i campioni. Come si possono raggiungere nuovi traguardi informativi, fornire nuovi dati sulla popolazione, utilizzando tecniche innovative, meno invasive e meno costose.